Bentornati su MyFootballJersey. Vi mostro, vi mostro oggi la seconda maglia del Marsiglia per la stagione 23-24 in edizione FAN. La stagione del Marsiglia La maglia non è niente male, molto buona la qualità, bellissimi colori, al costo che vedete qui sopra, un affare secondo me imperdibile. Vi ricordo che per ordinare la maglia trovate qui sotto in descrizione tutti i riferimenti. Andate a vedere perché c'è anche un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Prima di lasciarvi vi chiedo di iscrivervi al canale. È l'unico modo che avete per avere sempre nuove recensioni. Per oggi è tutto, alla prossima! Io sono alto 1,75 m e peso 70 kg circa. Quella che vedete è una taglia media della versione FAN. Per oggi è tutto, alla prossima! 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 Per ora è tutto! Per oggi è tutto, alla prossima!